Ma non è cool! Ma non è cool! Panico, panico! Ciao a tutti ragazzi! Tutte! Anastasio! E allora? Uno, due, tre... Ficchio! Allora, è così... Sono un po' confuso, però va bene. Vai tranquillo. Allora, il sabato, Anna, non ti devi chiedere il perché, ok? È così, va bene, mi piace. Vale tutto, vale tutto, vale tutto. Allora, oh, ieri sera in rosso, veramente figo. E grazie. Molto figo. Vedi che lo sapevi che stai... È certo. È certo. Bisogna essere consapevole, no? È la prima cosa, essere consapevoli. È vero. E tu lo sei. Io lo sono, tanto. Meno male. Bravo. Allora, ti stai divertendo, ti sei divertito, tutto a posto? Sì, molto divertito, devo dire. Molto divertito. Cosa c'era di strano che hai trovato così, in questi giorni di Sanremo? Ah, perché oggi è l'ultima volta. No, è l'ultimo giorno, è il tempo di bilanci. Tempo di bilanci, ragazzi. Di strano? No, non lo so, francamente. Tutto come me l'aspettavo. Un Sanremo proprio che è filato liscio come l'olio. Almeno per me. Per te, sì, perché per gli altri è un po' meno. No, per qualcuno molto, molto, molto. Tu dove eri ieri sera verso l'uno e mezzo? Ero al ristorante insieme ai pinguini. Ah, insieme ai pinguini. Vabbè, allora non eri... Perché è successo qualcosa, non ne so niente. Guarda che sei... Gira voce, poi... No, no, io non so niente. Tu non sei niente, non posso sapere niente, bravo, tieniti fuori. Hai ragione. Allora, stasera a che ora canti? Stasera sono diciottesimo. Urca, quindi si va lunghi. La gentile brava sui tempi. Si va lunghi, si va lunghi a preparare i caffè. Beh, diciottesimo siamo abbondantemente oltre la mezzanotte, secondo me. Direi di sì. Eh sì, abbondantemente. Prima che fai... Anche se abbiamo una notizia per te. Amadeus ci ha appena detto... Sì, sì, sì. ...che le esibizioni devono finire a luna. Ah, che bello, quindi diciottesimo. Allora, l'ha detto, poi lo ripeteremo, lo racconteremo io e Federica, ma l'ha detto oggi in conferenza stampa anche perché i giornali hanno un problema di deadline, no? Eh sì, non l'hanno spiegata sta roba. Esatto, quindi devono assolutamente sapere entro la... Entro le sei del mattino. No, entro la 1.15, anche se poi sarà imbargata la cosa, ma questa è una roba tecnica. Però vabbè, questo è un altro discorso. Dai, presenta oggi bene il pezzo, eh, Anastasio? Eh, sì. Allora, con rosso di rabbia... A zero, vai, eh. Anastasio, con rosso di rabbia, su RTL. Io, sta canzone adesso, non perché sei qui, ma la canto, no? Eh sì. E meno male. Eh no, no, certo che meno male. Serve per questo. Però, panico, panico, sto dando da matto, ma va bene, va bene, guarda, ti scarica anche, no? Perché mi piace il fatto che tu dica la rabbia che abbiamo tutti quanti, ma va canalizzata, va utilizzata, va gestita, va... Eh, questo pezzo parla un po', però, dell'alienazione della propria rabbia. Cioè, io ho la mia rabbia, la sento mia, la sento intima, ma questo vale per qualsiasi emozione, non solo per la rabbia. E poi la porto su un palco e la regalo e poi mi prendo un applauso e mi sento un fallito. Perché dico, che cosa ne ho fatto della mia rabbia? Una canzoncina? Ci ho divertito una folla. Beh, però, scusa, non vuol dire che la rabbia... No, dico, il pezzo parla un po' di questo, di sentirsi disinnescato. E tu ti senti veramente così? Beh, mi sono sentito così, per esempio, dopo la fine del mondo, che era un pezzo molto intimo, a un certo punto l'ho odiato quel pezzo, perché non era più mio, era di tutti. Questo, questo è un tema che hanno molti tuoi colleghi, che spesso dicono, nel momento in cui tu hai una canzone ed è tua, finché gli altri non l'ascoltano e finché soprattutto non viene pubblicata, in quel momento diventa degli altri, non è più tua, appunto, un po' come quando il figlio prende via e se ne va per la sua strada, e quella non è più tua, però è il tuo regalo che fai agli altri. No, 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 questo è certo. Ma influisce sulle tue emozioni, quindi? Sulla gestione delle tue emozioni? No, più che altro, sai, a volte vederla spettacolarizzata, un'emozione, è brutta, tutto, la vedi proprio perdere di efficacia. Però ti posso dire, è anche vero che ognuno usa le opere di un'altra persona, in questo caso le tue, come crede? No, no, guarda, io non è che dico non fado, è un discorso molto personale. Aspetta, 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 voglio dire, io interpreto questa canzone a modo mio, Federica a modo suo, lei, e questo è bellissimo, perché ognuno ne trae qualcosa di cui in quel momento ha bisogno, non credi? E' bello questo carattere della musica, ovviamente, che ognuno ne fa quello che vuole. Esatto, esatto. E ma probabilmente anche su te stesso, però, il fatto di disinnescare una rabbia, che per carità è una rabbia che è stata probabilmente motore di creatività, perché motore poi, no, di questa canzone, questa o altre opere che tu crei, però in qualche modo viene invece disinnescata e dà il via a un'altra emozione che viene dopo e che produrrà qualcos'altro, è un po' il gioco della vita. E che sarà data ancora in pasto ad un pubblico, così ancora e ancora. E che si rinnoverà a sua volta. Comunque ti è piaciuta questa seduta dalla dottoressa Gentile e dalla dottoressa Nicoletta che sta bene. Esco davvero sollevato. Dieci euro. Dieci euro, grazie. Allora, grazie mille Anastasio per essere stato con noi tutta la settimana. Grazie a voi. E anzi, se volete votare per lui o per il vostro preferito, andate sul sito rtl.it perché c'è la nostra classifica di noi di Ressarremo, la classifica per decretare la canzone più radiofonica del Festival 2020. Che bello. Diciassette e ventiquattro, questa è RTL 125, la fede e la Nico, tra poco. State lì. R.D.L. 125